Musica Bella a tutti ragazzi, qui è Enrici e oggi siamo qui con un video molto molto particolare Oggi parliamo degli 8 svincolati che secondo me farebbero i titolari in tante squadre di Serie A Partiamo da Antonio Cassano ragazzi, chi non conosce Fanta Antonio Cassano è una testa di rapa in tutti i sensi Però la sua qualità, la sua classe servirebbe a tante tante squadre di Serie A Un bel trequartista che magari un po' lentuccio ma con quel piede può mettere i giocatori dove vuole Li manda in porta con gli occhi chiusi Altro svincolato di classe ragazzi è Giuseppe Rossi Peccato per i suoi tantissimi infortuni ma lui veramente sarebbe stato un fenomeno assurdo Immaginate giocare Giuseppe Rossi con Suso e Dybala Regalerebbe gioie a tantissimi fantamisti Poi un altro svincolato è Alino Diamanti Lui veramente con le sue punizioni magiche ti regala tante di quelle gioie Io lo vedrei bene in una squadra tipo Benevento oppure Crotone ma anche tipo un Sassuolo Speriamo che lo prenda qualcuno Passiamo ad un altro svincolato e parliamo di Juanito Gomez Non so se molti di voi lo conoscono ma vi posso assicurare che è un gran bel giocatore Peccato che negli ultimi anni è stato un po' ai margini del progetto soprattutto Verona Ma questo è un giocatore di classe e spero che qualche squadra lo prenda per continuare a regalare gioie ai propri tifosi Poi vabbè uno degli svincolati più forti secondo me esistente nel panorama mondiale è Gilardino Ok ormai è abbastanza anziano ma i suoi gol li fa sempre Mettetegli 2-3 quartisti vicino secondo me fa una valanga di gol Vi prego squadre del mondo prendetelo ancora per un anno Gilardino può regalare ancora tantissimi gol Questo svincolato diciamo che potrebbe non piacere a tante persone ma secondo me è un giocatore ancora valido Flamini non so se lo ricordate al Milan ora ha avuto una breve storia calcistica in Premier League È un buon mediano un buon rompitore di gioco diciamo così Secondo me se qualche squadra lo prende può ancora regalare un pochettino di qualità nell'interrompere il gioco a centro campo Questo qui è per intenditori Ciamac ragazzi non so se lo conoscete io a FIFA l'ho sempre preso mi è sempre piaciuto come giocatore All'inizio aveva una cresta abbastanza evidente adesso ha un po' meno capelli Ma questo è un giocatore che secondo me non tanto come punta ma come trequartista Col suo dribbling può regalare gioie ai propri mister Quindi è libero e non fatevelo scappare Ultimo svincolato è Paolino De Ceglie Qui andiamo di ignoranza ma ignoranza non tanto perché alla fine è un buon terzino Secondo me in Serie B potrebbe dire la sua quest'anno Quindi squadre di Serie B mi raccomando vedete questo video e prendetevi Paolino De Ceglie Niente ragazzi questo video può finire qui spero vi sia piaciuto Magari molti di voi non sapevano che questi giocatori erano svincolati Mi raccomando un bel mi piace al video Un'iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie.